Aurola ci canterà una canzone che si chiama Raise Up Complimenti e per voi Federica Ross Grazie 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 For you, for you, for you All we need, all we need is all And for that we have each other And for that we have each other Yeah, we won't rise, we won't rise We'll die so high We'll rise Horizon, rise up to the horizon As a pilot will cover us A thousand times again And we rise up, highlanded ways We rise up, in spite of the anger We rise up, and we're trod A thousand times again For you, for you For you, for you For you, for you For you, for you La ragazza dalla voce spettacolare Che avete sentito nel video E infatti qui accanto a noi Stiamo parlando di Federica Ross Che ha soli 17 anni E di Casarsa della Delizia E attualmente frequenta il liceo artistico Sello a Udine E la Supersonic Music School Scuola appunto di musica A Cervignano La bella notizia è che Ereduce da una vittoria importante Si è giudicata infatti il primo posto Nella categoria interpreti Al premio Casa della Musica Sempre a Cervignano La finale si è tenuta pochi giorni fa Domenica scorsa Finale della sesta edizione Del 2020 Che per forza di cose Si è conclusa adesso Nel 2021 Sul palco c'erano 15 finalisti 5 per ogni categoria La categoria interpreti Categoria inediti E poi musica elettronica Ecco da notare la composizione della giuria Con tanti pezzi grossi Da Andrea Rigonat Chitarrista e marito anche della cantante Elisa Poi lo storico chitarrista Riccardo Onori Storico chitarrista di Giovanotti Albert Marzinotto Giovane e noto DJ E ancora Cindy Cataruzza Grande interprete rock Marino Cecada Musicista e videomaker E Francesco Contadini Compositore e produttore Nel ruolo di presidente di giuria Ecco c'è stato anche il voto online Partner ufficiale dell'evento Era il messaggero veneto Che ha dato appunto la possibilità Nel suo sito web Di votare da casa Ecco allora Veniamo a noi Federica E com'è stata questa esperienza E che significato ha per te Questa vittoria Allora questa esperienza L'ho vissuta con felicità Ero molto contenta Di partecipare a questo concorso Insomma E anche di essere stata appunto Una delle finaliste degli interpreti E' stato anche mettersi un po' in gioco Perché appunto è la prima volta Che sono salita in un palco vero Insomma E quindi comunque l'adrenalina E lo stress ci sono stati insieme Ehm Però mi hanno appunto aiutata A fare una buona performance E sono molto contenta di questo Ehm E niente E' stata un'esperienza Che mi ha comunque fatta crescere E comunque continuerò a farne tante altre Troppo E' un brano che ha scritto E è Cantato Andradei Che appunto parla di una storia d'amore Tra due persone e l'abbiamo scelta io e la mia insegnante praticamente perché appunto ci piaceva insomma come canzone e perché voleva farmi appunto far valere la mia voce, la mia potenza che avevo dentro appunto e questa canzone ha anche un significato molto bello che è appunto quello di rialzarsi dopo che si è appunto avuto un'esperienza negativa quindi appunto tristezza, dolore è appunto questo e per me è molto importante come canzone e l'ho sentita proprio mia quando l'ho interpretata Ecco, il genere di questo brano è tra l'R&B e il soul, giusto? Ti senti particolarmente rispecchiata da questo genere o c'è anche qualcos'altro che ti piacerebbe sperimentare se non l'hai già fatto magari? Ora sì, è un genere che mi piace molto però ovviamente io cerco di sperimentare sempre nuovi generi quindi anche ho provato il rock, infatti un anno fa sono entrata a far parte di una band rock nel mio paese con quattro miei amici e diciamo che è stata una bellissima esperienza perché ho imparato anche a controllare la mia voce dentro a un gruppo quindi comunque cercare di adattarmi a ogni situazione e quindi è stata una bella esperienza Ecco, dopo aver parlato di questo tuo recente successo è quasi da obbligo fare un passo indietro per cercare di capire come nasce la tua passione per la musica quando hai capito effettivamente di poter avere una marcia in più? Allora, tutto inizia due anni e mezzo fa più o meno quando i miei genitori mi iscrivono ai corsi di canto a Cervignano però in realtà questa passione del canto, del ballo, anche appunto di travestirmi ce l'ho fin da piccola Quindi è stato molto importante anche il sostegno della famiglia immagino c'è anche un aneddoto che mi avevi raccontato dietro le quinte Vuoi condividerlo con noi? Sì, appunto prima di iniziare le lezioni di canto io ero un po' timida, quindi mi chiudevo in camera mia cantavo diciamo in solitario e quindi mi chiudevo anche in me stessa perché avevo paura di far sentire la mia voce però un giorno diciamo che i miei mi dicono vabbè esibisciti in salotto mio papà mi aveva comprato un microfono in una cassa e allora ho cominciato diciamo a casa a esibirmi davanti a loro e mi ha detto cioè wow, bravissima e allora da lì appunto mi hanno iscritta alle lezioni di canto perché vedevano appunto che avevo questa grande passione dentro di me e allora così, in realtà così insomma Beh, un debutto che comincia in famiglia e invece c'è qualcuno a cui ti ispiri? Hai qualche mito? Allora, io cerco sempre di essere me stessa però sin da piccola comunque ho avuto diciamo grandi delle ispirazioni da parte di grandi cantanti quindi come Ariana Grande, Billie Eilish e ho sempre interpretato le loro canzoni in chiave mia però secondo me la cosa più bella comunque è interpretare una cover di una persona, di un maschio appunto in chiave femminile per dare appunto originalità al pezzo E se potessi fare un duetto con qualcuno se domani ti dicessero Federica, puoi scegliere qualsiasi artista e duettare sceglieresti sempre uno di questi nomi o te ne vengono in mente altri ancora? Eh, boh, tantissimi cioè io anche tipo nomi maschili come Shawn Mendes, non so però è un sogno grandissimo cioè sarebbe molto bello Non si sa mai E oltre alla musica quali altre passioni hai? Allora io ho tante altre passioni come l'arte e poi diciamo la fotografia e anche diciamo il make up mi piace truccarmi quindi ho tutte queste cose insomma che mi caratterizzano E com'è destreggiarsi tra liceo, scuola di musica e poi anche tutte queste altre passioni? Come fai a conciliare tutto? Eh, perché basta crederci insomma cioè è una passione che sono tutte passioni che ho da un sacco di tempo e cerco di portarle tutte avanti perché ci tengo molto insomma e spero appunto anche che il canto, l'arte mi diano un lavoro per il futuro insomma perché è la cosa principale diciamo E infatti parleremo di quello, anche di quello tra poco invece tornando un attimo nel campo della musica cosa pensi riguardo ai talent? Parteciperesti? Allora di certo sì la media un anno fa avrebbe detto no perché diciamo per la timidezza e per l'insicurezza però diciamo che cominci magari un'esperienza come è stato il concorso e ti rendi conto che è molto bello esporsi al pubblico togliere quell'insicurezza che ti colmava fino un anno fa e mettersi in gioco sicuramente quindi e poi sto anche partecipando a un altro concorso quindi quest'anno sta andando molto bene e sono felice Infatti ti avrei chiesto proprio qualche anticipazione sui tuoi progetti futuri? Eh ce ne sono tanti insomma perché sto anche scrivendo una canzone con una mia amica stiamo arraggendo appunto il testo e appunto la melodia e poi appunto c'è questo concorso e poi si vedrà insomma come andranno le cose e niente così Una canzone in che lingua? In francese pensavamo perché mi piace molto sperimentare cose nuove e quindi così Poi c'è qualche altro sogno nel cassetto? Oddio Per adesso c'è quello di diventare una cantante da grande e di fare diciamo un concerto tutto mio sarebbe molto bello scrivere nuove canzoni e anche nell'ambito dell'arte magari restauratrice non sarebbe male e tutte queste cose sarebbero il mio sogno insomma Bene Allora grazie ancora alla talentuosa Federica e ancora complimenti e un grande bocca al lupo per il tuo futuro e grazie anche a voi che ci state seguendo Un saluto dalla redazione di Telepordenone con Federica Allora grazie a tutti